Sono partita per un weekend minimal con un solo zaino e vi faccio vedere cosa ci ho messo dentro. Allora, la prima cosa sono queste ciabatte Shanges in Yota e le mie ciabatte da mare e mi sono portate invece ai piedi direttamente di Birkestock. Non può mai mancare la mia borraccia termica della Chilis, sempre fondamentale qualunque viaggio. Poi ho aperto lo zaino per riempire l'interno e ho iniziato la beauty case che è pieno di tutte le cose che già conoscete e quindi roba zero waste e ricaricabile. E l'ho messa alla base dello zaino che è secondo me il metodo più comodo per riempirlo. Poi ho continuato con i vestiti, seguendo il metodo dell'artolamento che secondo me è super efficace e aiuta a risparmiare un sacco di spazio. Questo è quello che ho messo al suo interno insieme anche al ferro per i capelli. La mia sacchetta da mare impermeabile, ho scoperto le vere anche queste cinghie che però non ho usato per questo viaggio. Poi cavi e vari eventuali, cuffiette, i reader e alla fine nelle tasche laterali le cose più preziose. Nel portafoglio telefono e chiavi.